...quando i miei soci hanno parlato della cacchetta, vero? Esatto, ma non è questo che mi interessa. Non voglio più una parte della valla di rocchi, prima di solo stare con te. Perché ci garantisce che tu lo stia parando? Guarda, ti ho portato un regalino. Sarà posto a finire una molesta di scendi. Ma poi fatto, allora andiamo. Grazie.